E come vi abbiamo anticipato nelle scorse puntate, è andata in onda sabato 2 dicembre alle ore 12 su Rai 1, linea verde start. Ottimo il risultato degli ascolti, infatti la trasmissione ha registrato il 17% di share. Potete recuperare la puntata integrale su Rai Play. Ora vediamo un piccolo video promo realizzato per l'occasione e disponibile sui social di Confartigianato Vicenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.